Come giriamo le informazioni orizzontalizzate in verticale, quindi come applicare un unpivot dei dati? È molto semplice, basterà utilizzare questa funzione. Quindi scriviamo matr.trasposta, diamo il perimetro delle informazioni che vogliamo verticalizzare e chiudiamo la tonda. Ecco che avremo portato giù le informazioni. Se io ora vado qui e cambio i valori, vediamo che sotto cambia di conseguenza in automatico.